La procedura concorsuale del primo concorso per titoli ed esami per il reclutamento di 2004 direttori dei servizi generali amministrativi è organizzata su base regionale e prevede una prova preselettiva, se a livello regionale il numero dei candidati è superiore a 4 volte il numero dei posti disponibili, due prove scritte, una prova orale, la valutazione dei titoli. La prova preselettiva al computer si svolgerà a livello nazionale l'11, 12 e 13 giugno 2019. L'elenco delle sedi con la loro esatta ubicazione, l'indicazione della destinazione dei singoli candidati, nonché l'ora di svolgimento della prova preselettiva e le ulteriori istruzioni operative, saranno comunicate almeno 15 giorni prima della data di svolgimento della prova, tramite avviso pubblicato sul sito internet del Ministero e dei singoli USR competenti. I candidati si dovranno presentare nelle rispettive sedi d'esame munite con i di un documento di riconoscimento in corso di validità e del proprio codice fiscale. La prova preselettiva avrà una durata di 100 minuti, al termine dei quali il sistema interromperà la procedura e acquisirà definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento. Fino all'acquisizione definitiva il candidato ha la possibilità di correggere le risposte già date. La prova si può svolgere in più sessioni. La prova consiste in 100 quesiti a risposta multipla. Ogni domanda è seguita da quattro risposte, delle quali soltanto una esatta. L'ordine dei 100 quesiti somministrati sarà diverso per ciascun candidato. I quesiti sono estratti da una banca dati di 4.000 quesiti che sarà resa nota almeno 20 giorni prima lo svolgimento della prova. Durante lo svolgimento della prova i candidati non possono introdurre nella sede di esame, carta da scrivere, né codici, raccolte normative, dizionari, tessi di legge, pubblicazioni, appunti, strumenti di calcolo, cellulari e strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati. È vietato inoltre ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto o di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della commissione esaminatrice. In caso di violazione sarà disposta all'immediata esclusione dal concorso. Per la preparazione alla prova preselettiva e alle successive prove, la tecnica della scuola propone alcuni corsi e-learning e webinar su alcune tematiche delle prove. Per saperne di più visitate il sito www.tecnicadellascuola.it area formazione e continuate a seguirci per restare sempre aggiornati su tutte le novità.